Tutti ormai abbiamo quella che definiamo un'identità digitale. Per i più anziani spesso diventa sempre più difficile difendersi dalle truffe online. Allora alcuni di loro sono andati a lezione dai carabinieri. Alessandro Franzi. Non è una scuola ma la caserma dei carabinieri di Cavalese, dove per tre settimane un gruppo di anziani della Val di Fiemme è andato a lezione di sicurezza informatica per usare meglio i servizi digitali a partire dallo speed e per conoscere i rischi della rete. Usare il computer è facile, usarlo bene è molto più difficile. Abbiamo imparato tutti i passi per fare le cose in sicurezza. Ci hanno iniziato a non divulgare i nostri dati, insomma. 11 comuni di montagna, un quarto dei 20.000 abitanti della Val di Fiemme ha più di 65 anni. I tentativi di truffe online sono frequenti, come quella volta che una 77enne di predazzo contattata da un falso operatore delle poste è riuscita ad allertare i carabinieri, che hanno organizzato queste lezioni insieme a Leonardo. Abbiamo cercato di dare sia le basi alle persone che non le avevano e la consapevolezza invece alle persone che avevano già una discreta conoscenza dei mezzi informatici. È stato per noi il modo migliore per poter evidenziare la nostra presenza sul territorio in queste valli, essere al servizio della gente e per la gente. Come a scuola è poi arrivato l'attestato di fine corso. L'unica cosa è che tre lezioni sono un po' poche, insomma, per recepire bene tutto, vista anche la nostra età.